Ciao! Oggi vi porto con me sul Monte Canto. Sono a Pontida, potete lasciare la macchina in uno dei parcheggi presenti nel centro del paese oppure proseguire verso il cimitero e poi lasciarla in questo grosso spiazzo. L'escursione di oggi prevede un giro d'anello che mi permetterà di fare tutto il giro del Borgo del Canto. Qui troviamo subito un bivio, adesso io salgo a destra sul sentiero 897, mentre a ritorno scenderò qui a sinistra dal sentiero 898. A questo bivio io tengo la sinistra, andando qui a destra invece si può raggiungere il rifugio del gruppo escursionisti di Pontida. Nei pressi di questa curva, dove c'è questo segnale bianco e rosso, lasciamo la strada sterrata che continua a salire e prendiamo questo sentiero nel bosco. La facile e larga strada che abbiamo percorso all'inizio, adesso lascia il posto a un sentiero più stretto e anche molto ripido. Il terreno è anche molto umido, quindi fate attenzione a non scivolare. Dopo circa 40 minuti sono arrivato alla cascina di San Bartolomeo, che era un antico monastero di cui oggi rimane solamente il campanile che vedete qui in fondo. Adesso continuiamo a salire qui a destra. Il sentiero ora torna ad essere una comoda strada. Sono arrivato al Borgo Canto, adesso proseguo a sinistra sul sentiero 891 per raggiungere il Monte Canto. A questo bivio adesso continuiamo a destra verso il Monte Canto. Il Borgo del Canto nel corso dei secoli ha sempre avuto un'importanza strategica grazie alla sua posizione. Infatti il Monte Canto è isolato a sud dall'Abrianza e da tutta la città, mentre a nord c'è la Valle di San Martino che lo divide dal Monte Linzone e da tutto il resto delle Orobie. Per via della posizione abbastanza isolata, questo monte è sempre stato considerato un luogo sacro. Come vedremo più tardi, infatti sono numerose le chiese e i monasteri presenti in questa zona e persino il Papa Giovanni XXIII amava camminare in queste zone. Dopo il lungo tratto pianeggiante ho trovato questo cartello del Cai ed ora proseguo a destra e in 15 minuti arriverò alla cima del Monte Canto. Arrivato! Dopo circa un'ora e dieci sono arrivato alla vetta del Monte Canto dove c'è un cartello metallico e una piccola croce in legno. Essendo all'interno del bosco tutto il panorama è coperto dagli alberi. Adesso lascio la vetta e proseguo a camminare qui a sinistra verso il Crocione. Arrivato a questo incrocio seguo le indicazioni per il Crocione che è dato a 5 minuti qui a sinistra. Ho raggiunto anche il Crocione. Adesso faccio una piccola pausa e poi torno indietro per pochi metri fino all'ultimo cartello che ho incontrato. Sono tornato indietro dalla vetta del Crocione e sono ritornato a questo incrocio. Ora prendo il sentiero breve che mi riporterà fino al Borgo del Canto. Sono tornato al bivio dove stamattina sono salito, ho fatto tutto il giro ed ora sono ritornato qui. Adesso riprendo il sentiero che mi riporterà fino al Borgo. Sono tornato al primo bivio del Borgo e adesso continuo dritto verso la chiesa di Santa Barbara. Qui troviamo tutti i ruderi dell'antico Borgo che sono stati recintati per questioni di sicurezza perché gli edifici stanno crollando. Ho raggiunto la chiesa di Santa Barbara di costruzione medievale. Adesso continuo su questa strada che mi porterà fino in località Fontanella. A questo bivio continuiamo a sinistra e tra mezz'ora arriveremo alla località Fontanella. Questo tratto è largo, è molto semplice e per ora è tutto in discesa. A questo bivio, come dice il cartello del Cai, continuiamo a sinistra verso Fontanella. Finalmente abbiamo una vista panoramica e guardate che spettacolo. Qui ci sono tutti i vigneti, mentre qua c'è la frazione di Fontanella che adesso raggiungerò. Ho raggiunto la Abbazia di Sant'Egidio, la cui costruzione è iniziata nel 1080, quindi quasi mille anni fa. Ho fatto una veloce visita alla Abbazia che, come dice il cartello, è sempre aperta dall'alba al tramonto. In parte la chiesa c'è anche una piccola fontanella dove si può riempire la borraccia. E adesso proseguirò qui a destra sul sentiero 898 per ritornare fino a Pontida. Come dice il cartello, adesso andiamo a sinistra sul sentiero 898 che in 45 minuti ci riporterà a Pontida. Sono arrivato a località Colle di Monte Albano e adesso continuo a sinistra, sempre sul sentiero 898. A questo bivio salgo che a sinistra per vedere la pietra di Sant'Alberto. Alberto L'Apprezzate fu il fondatore della chiesa di Pontida e anche della Abbazia di Sant'Egidio che vi ho mostrato in precedenza. La leggenda narra che salendo questo sentiero per andare a celebrare messa alla Abbazia, si sedette su questa roccia per riposare un attimo e quando si alzò gli era passato il mal di schiena. Le successive volte quindi continuò a sedersi e ogni volta poi stava meglio e da lì nacque la leggenda che questa pietra possieda delle capacità terapeutiche. Nel dubbio io mi sono seduto così magari mi passa anche il mal di gambe. Adesso riprendo il sentiero che mi porterà a Pontida. E' veramente incredibile come pur essendo pochi chilometri dalla città qui regna il silenzio che è interrotto solo dal canto degli uccelli, non so se li sentite. A questo bivio, come dice il cartello, continuiamo a sinistra per gli ultimi 20 minuti. Sono tornato al punto in cui sono partito stamattina, sono salito sulla destra e poi sono sceso a sinistra completando questo anello di circa 11 chilometri e poco più di 500 metri di slivello. L'escursione come avete visto non prevede molti punti panoramici ma ideali per chi ama camminare immersi nella vegetazione e nella natura selvaggia. Vi lascio tutte le informazioni tecniche nell'articolo del mio blog e come sempre, se vi va, ci vediamo alla prossima avventura. Ciao!